Open Day al primo istituto comprensivo di Nocera Inferiore per presentare l'offerta formativa che comprende 40 ore per la scuola dell'infanzia, 30 ore settimanali per la scuola primaria e 30 ore settimanali per la scuola secondaria di primo grado, laboratori, progetti per le scuole di ogni ordine grado con fondi strutturali europei e progetti extracurriculari e curriculari, competizioni con giochi d'autunno, campionate junior, tornei, robocode e giochi delle scienze naturali. Queste le offerte che il primo istituto, come dicevamo, offre e propone alla sua platea scolastica e dalla città per la formazione di base dei futuri cittadini della città di Nocera Inferiore e nel pomeriggio di domani, 15 gennaio dalle ore 17 alle ore 20, accoglienza in Open Day per quanti vorranno visitare ed ascoltare insegnanti ed alunni che spiegheranno e presenteranno aule, laboratori, docenti ed esperienze che si vivono all'interno del primo istituto comprensivo di Nocera Inferiore. Ricordiamo, Open Day al primo istituto comprensivo di Nocera Inferiore e i ragazzi vi aspettano.